Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, video veramente super super veloce poi in realtà come al solito ci metto mezz'ora a fare questo video ma cercherò di rimanere concentrato sull'obiettivo di quest'oggi bene faccio questo video per avvertirvi che sia questa settimana che la prossima ci saranno due serate, due eventi organizzati con Kinguin dove potrete vincere un sacco di roba non so se è il contesto dove si vince più roba in assoluto che abbia mai fatto però magari ci possiamo anche andare vicini praticamente ci saranno due serate con due stream dove durante queste stream avrete la possibilità di vincere che di videogiochi, che per sconti, buone scuole, un po' di tutto praticamente e non è sicuramente male quindi grazie probabilmente tutto a Kinguin che ci date l'opportunità di portare avanti queste buone iniziative ma quello che vi interessa adesso è innanzitutto quando si terranno queste serate bene la prima parte già questa settimana venerdì, venerdì 17 alle ore 8.30 mi troverete live qua su YouTube mentre quello che sarà giovedì 23 alle ore 9 sarò su Twitch quindi due serate, le ripeto per chiarezza, la prima sarà questo venerdì alle ore 8.30 su YouTube ci sarà una live stream dove voi partecipando a questo evento ludico dedicato al carnevale diciamo avrete la possibilità di vincere che di videogiochi che sono state scelte più dei buoni scontri da poter utilizzare su quello che è lo storo di Kinguin oltre a questo evento poi si terrà la prossima settimana come ho detto giovedì alle ore 21 su Twitch un'altra sessione diciamo un secondo evento sempre similare al primo con sempre i premi che potrete vincere solamente che il primo è su YouTube, il secondo è stato per differenziare ho deciso di farlo su Twitch bene, non c'è niente, cioè, cazzo, ma ci avrò messo neanche un minuto e mezzo a fare tutta questa roba forse diciamo due perché mi sono ripetuto, incredibile ragazzi per la prima volta sono uscito a dire faccio un video super veloce e poi mi sto dilungando troppo, avete ragione bene, questo era tutto quello che volevo dirvi, mi raccomando partecipate numerosi perché chiaramente più siete, cioè, no in realtà più siete meno probabilità di vincere avete, ma più siete più è probabile che verranno fatti altri eventi ecco, questo, questo sì niente, potrei spoilerarvi cos'è in quel sacchetto perché mi hanno dato un sacchetto di cagate che sono carine, cioè, quasi no, no, ve lo faccio vedere, vedete tutto venerdì che serviranno per creare la coreografia robe che probabilmente devo mettere anche in testa la cosa mi, 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 mi vabbè, quindi se volete vedere, seguire tutto troverete la stream venerdì sera e poi giovedì sera, sì basta con questo è tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione se attendeste con ansia questo giveaway e ne voleste poi molti altri, molti eventi simili mi raccomando, non dimenticate di lasciare un pollicino in su e mi raccomando, per non perdere chiaramente questi eventi iscrivetevi al canale, anche per non perdere gli altri video possibilmente sarebbe gradito perfetto, tutti liberi andate in pace e basta ciao sono tipo super giallo, ma non ho voglia di fare color correction quindi rimarrò giallo, anzi, a questo punto potrei aggiungere altro giallo per rendermi ancora più giallo no, così fa schifo meglio non toccare nulla meglio grazie a tutti grazie a tutti